Rete inviolate per la prima volta nella San Giovannese nella storia a Pomezia. Guidotti escluso eccellente nell'undici, c'è invece in mediana Tacconi e non Muscas dall'inizio. Si parte subito con il siluro di Mencagli che va a sbattere sulla traversa a portiere battuto. Una botta simile aveva liquidato il Flaminia. Da posizione analoga tocca a Martini, stavolta la sotterra, spera che lambisce il palo. La Sangio è decisamente messa meglio in campo e anche nella ripresa approccia alla ricerca della rete. Scoscini non crede all'occasione d'oro che gli capita con un colpo di testa in aria che gli esce troppo debole. La prima nota dei padroni di casa è l'incornata di Massella. Solo spizzata sul traversone di Colantoni e poco dopo riecco il marzocco dalle parti di Pinna. Punizione di Martini. Sulla ribattuta Scoscini chiama all'intervento del portiere. Mencagli insacca la ribattuta ma è tutto fermo per fuorigioco. Per il numero 9 è davvero una questione personale. Dopo le sportellate con Colantoni, botta dall'incrocio a superare l'intero specchio. Purtroppo, quando la rete sembrerebbe nell'aria, ecco il doppio giallo a Baldesi che diminuisce molto il ritmo della squadra azzurra. Ed il Pomezia prova ad uscire dal guscio. Troppo semplice per Scarpelli il colpo di testa di Massella. Nel finale è murato il neo entrato Amboni. Finisce così appunto 0-0. Domenica il Foligno al Fedini.